Io entriamo molto fiducioso della vita, c'era sempre davanti una vecchietta alta così, quindi io non la vedevo, no? Pensavo, chi è? Tocca a me. No, c'era lei. Faceva così con la mano. Con quei cappotti imporriti, quei cappotti che li poi... Lei lo lasciava in piedi. Con questa pelliccia, ma vecchia. Erano due volpi che forse nella vita si stavano litigando, poi sono morte, l'hanno uccise tutte e due, e ci hanno fatto questo colpo, questi due volpi, con le palline, i resti li dava con le naftaline. Una tristezza. Allora, lei davanti era la morte in diretta, perché cominciava a fare così. Ah, qui c'è il bancone, ti guardava male così. Come dire, io qui ti ci faccio morire. E' arrivata la rubiola fatta svastica? E' arrivata? Era così buona? E' arrivata? Questo yogurt? No, non questo. C'è la vetrina, no? Questo. Vieni, vieni. Lo faceva entrare dentro il frigo. Tutto sottosterzo. Vieni, vieni. Gira tutto, gira tutto. Questo. No, non lo voglio più. Questo è il prosciutto cotto. Qui c'è i polifosfati, questo prosciutto. E questo no? Sì? Cioè sì? E no? Sì? O no? Con una pinzetta, qualche polifosfato. Ma lo metti di là? Per creare un equilibrio? Il tonno, cioè quello scatola? No, voglio quello brado, quello che sta galoppando, quello brado. Insomma, dopo mezz'ora, 40 minuti, eravamo un popolo. Chi si preparava la tenda per la notte? Chi accendeva il fuoco? I bambini che giocavano con i sassetti? Un villaggio. E lei continuava. Tanto a me la rabbia mi montava sempre di più. E questi sono i fagioli con l'occhio. Vedono? E' un modo di dire? Me ne fai... No, pensavo lo stracchio... Meno. Meno. Pensa meno e raddoppialo. Quello attaccato al coltello. Quello che è rimasto attaccato al coltello. Con l'altro coltello, mettimelo sul foglio. Quanto pesa? Andava via. Era gratis perché andava via. Insomma, a un certo punto, basta così, diceva. Basta così, si sentiva. Fatelo voi. Basta così. Quello spegneva il fuoco. Smontava la tenda. Stava a me, ero tutto emozionato. Pensavo a un esame di maturità. Ah! Dimenticavo. Pensavo di prendere le olive, quelle verdi, quelle nere, quelle piccole. Ci sono un pochino più grandi. Quelle grandi ci sono un pochino più piccole. Fra la grande e la piccola c'è un intermezzo medio di oliva disossata e l'acqua con le bolle, minerale, ferrare. Insomma, ha cominciato a rompere i coglioni a un certo punto. Io ho preso la vasca delle olive, ho aperto il Dixan, ci sono entrato dentro. Ho versato, con un umbrello strappato da una signora, ho girato, acqua, olive, Dixan, una schiuma. E dall'onda sono salito sul bancone. Ero Thor, il vendicatore dell'alimentario. Ho preso due prosciutti che costavano 800 mila lire l'uno. Li ho staccati così. C'erano le ventole, ho dato le fette al mio popolo. E lei era lì, tremolante, indifesa, vecchia, vecchia, fuori e dentro. Prendo l'osso, perché ormai era diventato osso, e tipo mazza la baseball, la sto dando in faccia a quella puttana di vecchia accia di me merda. O non si svegliano le volpi? O non si svegliano le volpi?